Ciao a tutti, buonasera e grazie Maurizio per questo progetto. Ma guarda Fabio, tu lo meriti perché non è solamente a detta nostra. Sentiremo poi le parole di uno degli uomini più importanti di Michelin da Clermont-Ferrand. Non possiamo che ringraziare per la mano che ti ha sempre dato e poi quanto hanno creduto in te, ad esempio, grandi personaggi come Sticchi Damiani, che ho sentito telefonicamente e anche se quest'anno non sei nella Cittima Italia, ovviamente comunque ti fa, secondo me, anche lui per te. E comunque tutto il mondo dei motori sa quanto vali. Sei uno dei primi 4-5 piloti in Italia. L'obiettivo qual è quest'anno? L'obiettivo è quello di vincere il campionato e portare ai massimi livelli la Liguria. La prima gara sarà in Toscana, proprio questo fine settimana, e sarà una delle gare più difficili, diciamo, perché è la prima, tutti gli altri concorrenti saranno aggueriti, però bisognerà usare la testa e il piede, come diciamo noi nel mondo dei rally, e ragionare e riuscire a fare un buon risultato e portare a casa dei punti in vista del campionato. Grazie. Grazie.